Qua paglia di essere fissi? Oltre... Quello che sono chi è come? Ogh... Ma hai saputo una fritana? Non lo so, non lo so.. E' perchè la domanda da ve? E' sempre, non lo so di cosa ha Guamà, non lo so! Poish, più chi giri! ehi 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 andrei qui Ehi, Andrè è spalano, un russo, un'altra colonia, Andrè, Andrè è stato, che è combinato? Com'è? Niente, dici, dec'è detto? Andrè è scoperto! Non me, andrè è un pupinto! Ehi, ehi, andrè è salvatore! Ehi, ehi? Ehi, vervi, proventiamo! Ehi, sei un modo per me in terra! Non lo faccio, 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 non lo faccio! Tutta la volta prestigioso, non lo faccio! Grazie! Applausi! Averrissi e Salvatore! Ci siamo giunti alla parola e della parola di Maria! Rendiamo i morti e il figlio perché Salvatore ha deciso di stare in mezzo a noi, il popolo lo Andiamo tutti in chiesa. E viva San Mauro! E viva San Mauro! E viva San Mauro! E viva San Mauro!